Per quello che riguarda la raccolta differenziata siamo al 60% e questo è un dato aggregato. Interessante è il dato su singole frazioni e lì viene fuori che gran parte, carta, vetro, metalli, viene raccolta separatamente. Cerca il 70-80% finisce in raccolta differenziata e solo il 20-30% resta nel rifiutore Sibu. In frazione dell'organico siamo passati dal 2001 che era il 13% al 60%. Se abbiamo questi dati così buoni, da un lato è perché sono stati realizzati gli impianti e le strutture che consentono la raccolta differenziata e dall'altra soprattutto perché i cittadini hanno creduto e hanno avuto la sensibilità ambientale per separare e differenziare in maniera corretta.